Credo di interpretare il pensiero dei presenti ricordando uno dei più carismatici e visionari imprenditori che Centromarca abbia conosciuto. Dotato di capacità realizzativa unica, indomabile nel perseguimento degli obiettivi, Silvio Berlusconi aveva un talento speciale nel vincere le sfide apparentemente impossibili. Edilizia, televisione, editoria, sport, finanza sono alcuni dei campi in cui ha operato con successo. Ha scovato talenti e creato team vincenti, è stato un modernizzatore del linguaggio dei consumi, protagonista indiscusso dello sviluppo della televisione commerciale e della pubblicità ha compreso e intercettato le esigenze dell'industria di marca, contribuendo alla sua affermazione all'espansione del mercato del largo consumo in Italia. Impeccabile uomo di relazione sapeva entrare in sintonia e tracciare rotte con tutti i suoi interlocutori. Centromarca lo ricorda, riconoscente. Viviamo una fase storica in cui i percorsi lineari possono rivelarsi inconcludenti. Eppure, in questa policrisi globale, contraddistinta da fenomeni inattesi ed esterni, spesso contraddittori, la marca continua a rappresentare un elemento di equilibrio e rassicurazione per il consumatore. In Italia vale il 70% di un mercato omni-channel che solo nella distribuzione moderna sviluppa un giro di affari di 90 miliardi di euro. Alimenta un ampio indotto e grazie al suo apporto i settori dei beni di consumo sono arrivati a pesare per un terzo dell'export, garantendo contributi rilevanti al prodotto interno lordo e dalla fiscalità. Noi auspichiamo che la marca possa imporsi come modello di riferimento per lo sviluppo competitivo del Paese. Abbiamo bisogno di industrie sane, intelligenti, eccellenti ed innovative, di realtà con le carte in regola per generare attraverso i loro marchi quel valore condiviso a monte e a valle delle filiere, da cui derivano anche remunerazioni più elevate e benessere per le famiglie, di aziende in grado di espandersi sul piano geografico, di costruire relazioni innovative con il retail, di presidiare gli strumenti digitali. E aggiungerei, dotate di quella capacità di investimento adeguata, a rinforzarsi anche attraverso acquisizioni. Le dimensioni sono essenziali, rendono le aziende più solide, resilienti, meno sensibili agli shock dovute all'oscillazione del ciclo economico, contribuiscono al contenimento delle tensioni inflattive e sono fondamentali nella competizione internazionale. Industrie sane e profittevoli e in crescita sono la fonte di generazione e di ricchezza nel Paese. E noi vogliamo un Paese ricco. Lo sviluppo di un'industria eccellente competitiva non può prescindere da un contesto nazionale favorevole, è tra i compiti della nostra associazione contribuire a crearlo. Centromarchia sta intensificando la sua azione sulle istituzioni e sulle forze politiche, portando alla loro attenzione istanze e proposte. È opportuna la definizione di un piano nazionale che favorisca lo sviluppo dei comparti strategici, finalizzando risorse e creando le condizioni ambientali per l'affermarsi di un'industria orientata alla creazione del valore. Per esempio favorendo anche attraverso specifiche norme di incentivi di fiscalizzazione i fondamentali investimenti nei campi dell'innovazione, della digitalizzazione e della transizione sostenibile. Sul breve periodo a sostegno delle aziende e della dinamica dei consumi riteniamo prioritario rendere più consistente e strutturale il taglio del cuneo fiscale. Concludo con alcune considerazioni sulle dinamiche inflattive che hanno investito i mercati a livello globale e nazionale. Nel 2022, in Italia, le industrie del largo consumo hanno subito incrementi di costi che sono stati solo parzialmente trasferiti a valle. Ne sono derivate contrazioni significative dei profitti. Nell'alimentare, per esempio, i margini per unità di prodotto si sono ridotti del 41,6%. Proprio in questi giorni la pubblicazione dei primi bilanci aziendali relativi all'anno 2022 stanno confermando questa tendenza. L'inflazione rilevata nel primo semestre 2023 è dunque riconducibile al fatto che le forti tensioni dello scorso anno non si sono scaricate immediatamente a valle. Il quadro inflattivo avrebbe potuto essere più gravoso se le industrie di marca, oltre a sacrificare parte dei loro margini, non avessero reagito alle difficoltà rivenendo strategie, individuando saving, diversificando le fonti di approvvigionamento, migliorando l'efficienza e l'efficacia dei processi. È degno di nota il fatto che nel 2022, su 152 euro mensili di maggiori spese, determinate dall'inflazione rispetto all'anno precedente, 35 euro siano riconducibili al carrello della spesa, ma il peso maggiore delle famiglie, ben 95 euro al mese, è derivato dai rincari delle utenze domestiche. Al momento l'inflazione dà segni di rallentamento, ma è difficile fare previsioni se si considera l'instabilità che caratterizza il contesto geopolitico ed economico. Desidero ringraziare i relatori e i discussant che si alterneranno sul palco, i rappresentanti dell'industria, della moderna distribuzione, dell'indotto, delle istituzioni ed in generale tutti gli stakeholders presenti al teatro studio e che ci seguono in diretta streaming. Colgo inoltre l'occasione per manifestare pubblicamente la gratitudine di tutte le industrie aderenti a Centromarca all'ingegnere Roberto Bucaneve, per diversi anni nostro direttore che ha servito con lealtà, intelligenza ed incommiabile spirito di servizio, la nostra associazione.